Siete posizionati giusti, forse il fotografo è troppo vicino, ma vediamo. Allora, io direi fuoco alle polveri, pronti per vedere la nuova livrea del Ferrari 458 Italia che compirà l'impresa. Prego. La fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra l'opportunità. Siete. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Ernesto Cigelai. Essere un uomo è un'efficio, è soltanto poco Cigelai. Ernesto è l'incendio. Noi siamo quello che facciamo scuola tantamente. L'eccellenza quindi non è un altro, non un'abitudine. Ma è stato un uomo. Allora, eccoci con la vettura che tipicamente ha il tema di Fabio Consiglio per questa livrea. e io andrei a presentare la squadra a partire dal navigatore che è Paolo Cercozzi. Io direi che potete schierare tutti qui, mano a mano, che facciamo l'appello, così poi facciamo anche una foto tutti insieme. Allora, Paolo Cercozzi, navigatore. Alex Tedino, ingegnere di pista. Mimmo Leone, preparatore meccanico. Giuliano Sabellico, capo meccanico. Cesare Costantini, si occupa della logistica. Luigi Schillaci, tecnico. Emiliano Toso, logistica. Andrea Fredi, mental coach. Cristian Tonanzi, dottore osteopata e fisioterapista. E Fabio Bertuccio, preparatore atletico. Allora, a questo punto io lascio scattare una foto a tutti voi. E vorrei chiedere, cominciamo dall'osteopata e fisioterapista, quindi al dottor Tonanzi. In che cosa consiste il tuo ruolo, il tuo lavoro? Buonasera a tutti, grazie mille. Il mio ruolo consiste principalmente nel ruolo, per prevedere problematiche articolari e muscolari. Quindi, inizialmente, iniziare poi sulla performance sportiva. Abbiamo già cominciato il lavoro con altri risultati. A 4 di agosto, Fabio Bertuccio, preparatore atletico. Invece il tuo ruolo? Assolutamente, stiamo iniziando un percorso.